Beh, è pomeriggio, mia mura ha pensato bene di farmi fare qualcosa, quindi abbiamo una cosa che dovremmo montare. Va bene, sarà sempre il mio aiutante e lo faremo oggi pomeriggio. Vabbè, ma che avrà comprato il mio amore da farmi montare? Un dondolo! Vabbè, nel giardino ci si gode anche questo. E adesso lo monteremo. Ci sono le istruzioni? Ci sono anche le istruzioni, è scritto in italiano. Vado. Strano, ora puoi chiariremo. No, no. Allora. Prima di tutto, separiamo tutti i pezzi. E facciamo contusione. Prima di tutto, separiamo tutti i pezzi. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti